Buongiorno a tutti, sono sempre Vittorazzo.28 Allora, prima di iniziare con il video di oggi, vi ricordo che sui siti di Pampi che trovate il link sotto, c'è un'offerta molto interessante, ovvero per ogni maglietta che acquistate avete un paio di calze in omaggio. Infatti, solo finché dura questa promo, cioè per qualche giorno, fino a domenica circa, il codice VILASZLO che potete aggiungere in fase di acquisto non vi darà in omaggio un paio di calze, bensì vi darà il 10% di sconto sul totale del vostro acquisto. Poi tornerà il paio di calze in omaggio, ma per qualche giorno siccome già l'offerta vi fornisce un paio di calze in omaggio per ogni maglietta acquistata, avete il 10% di sconto usando il codice VILASZLO, ci sono un sacco di magliette molto interessanti, ve ne metto alcune su un'impressione, tra quelle più carine secondo me, però in descrizione trovate i link alle magliette mostrate, ma anche il link al catalogo in generale, così potete vedere se ci sono altri che magari vi interessano. Ora per la banda di calze, iniziamo subito con il video di oggi. Sigla! Allora, mi sono preso bene con le classifiche, visto che stanno tornando su questo canale, e quindi mi sono detto perché non fare una classifica dei flop, dei film usciti quest'estate, a partire da maggio, perché negli Stati Uniti America il periodo di maggio è già considerato come l'apertura dell'estate, anche se ancora in teoria è primavera, per cui ho ordinato i flop di questi film in maniera oggettiva, cioè da quello più devastante, a livello anche di perdita, a quello che se l'è cavata meglio, ma che comunque non è risultato essere un successo. Sappiamo che fin come Guardiano della Galassia volume 3, Spider-Man Across the Spider-Verse, Barbie, Oppenheimer sono andati bene, però ne sono usciti tanti blockbuster quest'estate e purtroppo la maggior parte ha fatto un buco nell'acqua, per cui andiamo a vedere un po' quali sono questi film e quanto è grave il flop. Ma prima è bene specificare una cosa, in tanti me lo chiedete, ma quando è che un film è un flop? Un film inizia ad essere profittevole, quindi a non essere in perdita ma guadagnare soldi, quando incassa il triplo del budget di partenza. Questo perché, e lo dico sempre ma lo rispiego, nel budget non è mai inserito il costo della campagna marketing, che quindi ha un costo ulteriore che di solito varia da film a film, può arrivare anche a 50, 60, 70 volte anche 100 milioni. Quindi bisogna considerare questo, ma soprattutto l'incasso finale di un film va diviso a metà tra le sale e la major che produce il film, per cui se un film incassa un miliardo, la major si prende mezzo miliardo e bisogna togliere poi i soldi della campagna marketing, per cui la cifra si abbassa considerevolmente, è per questo che di solito si triplica. Se poi un film incassa poco meno del triplo, di solito vuol dire che è andato in pari, ma non ha guadagnato e quindi non è considerabile come un successo. Tecnicamente non sarebbe un flop, però per flop si intende anche non un successo commerciale, perché c'è un film che non è tecnicamente un flop, ma non è neanche un successo, per cui l'ho inserito in questa classifica. Ma andiamo a vedere un po' di cosa stiamo parlando. Al nono posto abbiamo un film che è considerato il peggior flop per un cinecomic ovvero The Flash di Andy Muschietti, film del DC Extended Universe che secondo James Gunn in una sua dichiarazione pubblica avrebbe dovuto portare al reset del DC Extended Universe per fare spazio al DC Universe, ma a quanto pare questo non è avvenuto. Nel film non c'è nulla che faccia pensare a un effettivo reset o reboot. Quello che si pensava è che questo film avrebbe fatto ciò che Flashpoint fece anni fa nell'universo DC, portare a un soft reboot in cui si riscrivevano le origini di molti supereroi, quindi avrebbe avuto perfettamente senso. Il film resettava l'universo e iniziava il DC Universe. Siccome però sembra che anche James Gunn, che di solito le idee ce la chiare, in questo caso le abbia un po' affuscate, a quanto pare il film non ha fatto alcun reboot. Si dice che inizialmente l'idea era quella, poi hanno dovuto cambiare in corso d'opera, successivamente le dichiarazioni di Gunn, però diciamo che lui non è tornato sulla questione a dire o non lo fa più il reset o reboot. Ha fatto finta di niente, tutti si aspettavano questo inizio di reboot che però poi non è arrivato. L'unica cosa che The Flash ci dice è che Aquaman ha in tutti gli universi la faccia di Jason Momoa, così se Aquaman 2 dovesse andare bene lo riutilizzano. Io tra l'altro non guarderò Aquaman 2, non parlerò di trailer per il fatto che abbiano mantenuto la presenza di Amber Heard. Quando c'era stata la sentenza a sfavore di Johnny Depp contro il The Sun, che aveva chiamato Wife Beater, lo hanno tolto subito da Animali Fantastici, i Segreti di Silente, però quando poi c'è stata la sentenza emessa nei confronti di Amber Heard, lei è rimasta tranquilla in Aquaman e il Regno Perduto. A me questa cosa non piace, è un argomento che mi tocca molto, quindi io quel film non lo guarderò, non andrò a parlarne, non seguirò trailer e quant'altro, quindi ve lo dico subito, poi magari farò un video per spiegarlo perché magari se qualcuno non lo sa viene a dirmi, ma perché non ha parlato di Aquaman? Il motivo è quello. Quindi The Flash ha incassato 265.8 milioni di dollari contro un budget stimato in più di 300 milioni, ma non si sa bene quanto. Si dice che sia arrivato a circa 330 milioni, ma non è mai stata confermata questa cifra, per cui non è riuscito neanche a raggiungere il budget di partenza. Sarebbe stato un flop anche in quel caso, perché avrebbe dovuto raggiungere 900-950 milioni per iniziare ad essere un successo e guadagnarci qualcosa. Per cui è un flop clamoroso, le perdite ammontano a ben più di 200 milioni di dollari secondo le stime, per cui è uno dei film più devastanti per Warner, che in quest'estate è riuscita però anche a rilasciare un successo da 1,4 miliardi di dollari con Barbie. Solo che poi ci sono stati altri film che non sono stati assolutamente dei successi. Mi dispiace, purtroppo il film ha avuto tanti problemi, è quel che è. Io, ripeto, non lo disprezzo totalmente, mi aveva anche divertito, non mi ha tediato, nonostante durasse circa due ore e mezza, però effettivamente non era un film che si potrebbe considerare valido, ma neanche mi sarei aspettato un flop del genere. Io pensavo che 350-400 milioni sarebbe arrivato, invece il passaparola è stato terrificante e quindi, insomma, la gente si è guardata bene ad andare a vedere e è rimasto ben sotto i 300 milioni di dollari, totalizzando uno dei peggiori flop dell'anno, nonché, a quanto pare, il peggior flop per quanto riguarda un cinecomic. All'ottavo posto troviamo Indiana Jones e Il Quarante del Destino. Disney quest'anno ha inanellato diversi flop. C'è stato il flop di Ant and the Wasp Quantumania, che comunque nella top ten dei maggiori incassi dell'anno, il problema è che l'ha costato troppo e non ha incassato abbastanza per risultare un successo. Non l'ho inserito in questa classifica perché sto parlando di blockbuster estivi, quindi quello è uscito a febbraio e non rientra. Però in questa stagione estiva, a maggio, è uscito Guardia della Galassia Vol. 3, che come ho detto prima è stato invece un successo. Ha incassato qualcosina in meno rispetto al secondo, ma comunque ben più del budget di partenza. Ha comunque superato gli 800 milioni, per cui va bene così. E quindi qualche soddisfazione si è tolta, però vedremo che non è l'unico film di Disney in questa classifica. E il film ha incassato 382 milioni.3 con un budget che ammonta ben più di 300 milioni di dollari. Anche qui la cifra specifica non la sappiamo. C'è chi dice che è arrivato a 340 milioni di dollari. Sono tutte cifre falsate dal fatto che questi film sono stati interessati dalla pandemia durante le riprese. Slittamenti, interruzioni delle riprese, riprese che riprendono, shot aggiuntivi e quant'altro hanno fatto lievitare in maniera eccessiva il budget. E quindi le cifre che servivano per risultare profittevoli arrivavano quasi sempre vicine al miliardo. E lo sappiamo, di questi tempi arrivare a miliardo è un lusso che in pochissimi film si possono permettere. Se andiamo a vedere quali sono i film che hanno raggiunto il miliardo negli ultimi due anni, li contiamo davvero sulla punta delle dita di una mano. Sono pochissimi. Chissà se ce la farà Oppenheimer, che ha raggiunto quasi 900 milioni. È difficile, ma chissà. Magari faranno delle re-release tra qualche mese in occasione degli Oscar, si prende qualche candidatura, incassa ancora un po' e un miliardo ci arriva. Vedremo, vedremo. Sta di fatto che questo è stato un flop devastante e mi dispiace anche tanto, perché per me il film non era assolutamente meritevole di un risultato così desolante. È un film che ha i suoi problemi, dura anche tanto, due ore e mezza. Secondo me è anche la durata eccessiva che scoraggia le persone da guardare questi film, sta di fatto che non è assolutamente brutto. Come incasso in sé, 382 milioni di dollari, non è neanche male. Il problema è sempre il costo eccessivo. Perché comunque di questi tempi molti film faticano a raggiungere 400-500 milioni di dollari. Quindi questo risultato di per sé non è neanche così scoraggiante. Certo, è bassino per un film del genere. È un Indiana Jones. Così poco interesse per un Indiana Jones non se lo aspettava nessuno. Io pensavo che arrivasse ai 450 milioni, che non sarebbe stato tantissimo, ma sicuramente non mi sarei aspettato una cosa del genere. Purtroppo anche questo, come The Flash, doveva superare ampiamente i 900 milioni di dollari per essere considerato un successo. E questo è un grandissimo peccato per quanto mi riguarda, perché stiamo parlando comunque di un film che è stato realizzato con un certo impegno. James Mangold si è anche preso sulle spalle l'onere, il peso di raccogliere l'eredità di Indiana Jones dopo quattro film diretti tutti da Steven Spielberg. Ed è riuscito a fare anche un buon lavoro. C'era Phoebe Waller-Bridge, che a me è piaciuta molto. Harrison Ford lo vedevo anche abbastanza convinto. Però il problema è che evidentemente è un franchise che al momento non interessa, anche perché forse tanti non vogliono vedere un Indiana Jones così invecchiato, depresso. Lo capisco. Per cui purtroppo non è andata bene, nonostante il film comunque non fosse affatto malvagio. Al settimo posto troviamo La Casa dei Fantasmi. Film di Disney tratto da un'attrazione di Disney di Orlando, esattamente come Pirati dei Carabili che è tratta da Pirates of the Caribbean o Jungle Cruise che è tratto per l'appunto da Jungle Cruise. Questo film è tratto da Haunted Mansion che è un'attrazione per bambini, una giostra sostanzialmente. Il problema, l'ho già letto una recensione, è che Disney forse non si rende conto che alla gente non interessano i film tratti dalle loro attrazioni. Alla gente interessavano i pirati, perché i pirati bene o male tirano sempre a un mercato nell'audiovisivo, che siano videogiochi, che siano film, che siano serie televisive. Black Sales è andata molto bene, ad esempio. Anche Our Flag Means Death, quella serie mockumentary comica prodotta da Taika Waititi, che in Italia se non sbaglio non è ancora arrivata, sta di fatto che i pirati piacciono. Quindi Pirati dei Caraibi è andato bene come franchise, perché avevano Johnny Depp come Jack Sparrow, la storia era interessante, Igor Verbinski sa come creare buoni film di trattenimento, e quindi già Jungle Cruise non era andato benissimo, però era uscito nel periodo della pandemia, quindi non è che i risultati fossero proprio affidabilissimi, erano un po' falsati da questa cosa. Hanno riprovato con La Casa dei Fantasmi, con cui già provavano nel 2003, con un film trattato da quell'attrazione con Eddie Murphy il protagonista che non andò bene, e hanno speso 150 milioni di dollari per un film che ne ha incassati 101 milioni e 700 mila dollari circa. Un ecatombe è lontano e non arriverà a coprire i costi di base del budget. Un flop parecchio devastante, bisogna ammetterlo. Magari non devastante quanto quello di Indiana Jones e The Flash, ma comunque devastante, peraltro un film che hanno fatto uscire ad agosto e che potevano far uscire in sala a ottobre. E invece cosa hanno fatto? Hanno detto, lo mettiamo ad agosto così, per ottobre, in periodo di Halloween, lo spariamo su Disney+. Io credo che a livello cinematografico Disney si stia affidando un po' troppo a Disney+. Cioè certe volte sacrificano dei film che potrebbero avere mercato in sala, collocandoli nel momento sbagliato, magari mandandoli in sala e tenendoli un mese e poi sparandoli subito su Disney+. O magari addirittura facendoli andare subito, così sulla piattaforma come hanno fatto con alcuni film Pixar fino a qualche tempo fa, e quindi metti in difficoltà purtroppo il film stesso. Non so cosa sia successo, forse lo hanno visionato e hanno pensato, questo film non è valido. Ormai l'abbiamo girato, lo dobbiamo far uscire, e quindi lo facciamo uscire in estate. Collocazione sbagliata, ne parlavamo a facce di nerd qualche giorno fa, può anche darsi che loro abbiano pensato, ok, facciamo così, lo mandiamo, lo mettiamo adesso, perché comunque dobbiamo mandarlo in sala, perché la prima cosa che ti viene in mente è, ma perché farlo andare in sala se non ti convince? Perché questi film hanno moltissimi accordi con sponsor vari e a volte anche con i governi di alcuni stati, con i sindaci di alcune città, questo film è ambientato a New Orleans. Ipotizzo io, può essere che ci fossero degli accordi con la città di New Orleans e col governo di quello stato, per cui il film doveva andare in sala, per promuovere anche la città stessa. Per cui hanno fatto forse una cosa del genere, quindi doveva andare in sala. Sta di fatto che è un film che a me sembra stato ucciso a livello commerciale dalla major stessa, perché è una collocazione tanto sbagliata, non me la spiego con una volontà specifica di collocarlo in maniera sbagliata. Un film che peraltro non ha un gran mordente, se volete andate a guardare la mia recensione, ne ho parlato in maniera più specifica, però a parte i personaggi della Kit Stanfield, gli altri sono molto blandi. Poi è un film con anche un cast interessante, c'è Rosario Dawson, Jamie Lee Curtis, c'è Danny DeVito, Owen Wilson, quindi insomma ci avevano puntato anche tanto a livello di cast. Quello che mi chiedo è, dove cazzo sono finiti quei 150 milioni? Perché il film non mi sembra giustificarli. Gli effetti visivi non sono granché, sono molto alla scubidù, mostri scatenati, sono quel tipo di effetti visivo che io detesto, quindi non mi spiego in cosa minchia gli abbiano spesi. 150 milioni di dollari, per forza che poi floppa. 150 milioni di dollari per un film del genere sono una cifra secondo me insensata, per cui purtroppo, a me dispiace, io non sono mai contento se un film floppa, anche se un film non mi piace, non godrò mai per il flop del suddetto film. Io vedo tanta gente che dice, ah sì, godo, così imparano, ma imparano cosa? Ma sta gente ti ha fatto qualcosa a te specificamente? Cioè perché devi godere del fallimento di qualcosa che farà perdere il lavoro e perdere soldi, far perdere il lavoro tanti che magari ci ha lavorato? E fa perdere soldi all'azienda, cioè perché devi godere? A me dispiace sempre quando un film floppa, perché è sempre un male per le sale e per il cinema. Quindi il film non mi è piaciuto, ma non godo di certo per il flop della casa dei fantasmi. Al sesto posto troviamo un altro film residuo del DC Extended Universe, ovvero Blue Beetle, che al botteghino negli ultimi giorni ha recuperato, perché era fermo a 105 milioni, adesso a fronte di un budget di 120 è arrivato a 114 milioni. Chiuderà probabilmente la sua corsa con una copertura quantomeno delle spese di base del budget. Quindi ai 120 ci arriva? Io ho ipotizzato circa 120 milioni di incasso. Ormai il film è fuori da diverse settimane, non ha più il traino di prima, è crollato molto nelle settimane successive all'uscita. Quindi un altro film che secondo me non si merita a questo insuccesso, tra tutti i film del DC Extended Universe degli ultimi tempi, è il migliore sicuramente. Non so come sarà, perché come ho detto non lo vedrò, però se lo paragono a Shazam, Furia degli Day e a The Flash, è di un altro livello. Sembra sempre un film uscito nei primi anni 2000, un cinecomic prima maniera di base, ma a me piace così. A me non è dispiaciuto. Poteva essere un film che sarebbe diventato l'orgoglio della comunità latinoamericana, ma non è stato accolto in quel modo, perché comunque è il primo supereroe latinoamericano. Volevano fare una cosa alla Black Panther, ma non ci hanno creduto neanche loro. La campagna marketing è stata blanda. Addirittura i fan del DC Extended Universe hanno creato dei finti spot commerciali per spingere i film sui social e farli diventare virali, ma non è bastato. Il film ha un personaggio molto simpatico che io spero di rivedere, però James Gunn ha detto, come sapete, che questo non è il primo film del DC Universe, ma è il primo personaggio del DC Universe, ma saranno veramente interessati in futuro, tra qualche anno a tirare fuori un personaggio che non ha un film che ha inserito nell'universo, ma che possono inserire lui, non ha molto senso. Io spero di rivederlo, però non credo molto alle parole di Gunn, devo essere sincero, perché comunque un'azienda deve pur sempre attenersi a degli obiettivi commerciali. Se il film è un flop, ha senso fare un seguito? Ha senso creare un nuovo film che si è inserito nel DCU? Ha senso ritirare fuori il personaggio? Chi vivrà vedrà un flop, anche questo abbastanza devastante, che però secondo me non è devastante come quello di Shazam, Fuglia degli Dei e di The Flash. Shazam, Fuglia degli Dei, non è riuscito neanche a coprire per bene le spese del budget. Ha incassato tipo 184 milioni e ne ha costati 150, cioè è stato veramente un disastro su tutta la linea. Purtroppo non sono riusciti a spremere questi film che ormai avevano girato e che dovevano sbolognare, ma non ci hanno fatto, cioè non sono proprio riusciti a tirare fuori, a cavare il classico proverbiale, ragno dal buco. E a me onestamente dispiace perché è un flop immeritato. Il film non è uno di quei film che si meritano una così poca considerazione. È molto divertente, se non l'avete visto, lo trovate in qualche sala ancora, magari andate a vederlo perché secondo me è molto carino, pur non essendo questo gran filmone. Per quello che voleva essere, ovvero un film di intrattenimento senza pretese, con me è riuscito ad adempiere al suo scopo. A quinto posto troviamo Mission Impossible Dead Reckoning, parte 2, film che in teoria avrei dovuto mettere leggermente sotto, però in realtà è un film che ha comunque abbracciato dei successi, per cui secondo me non è stato così devastante come flop. L'ho dato anche a Christopher McQuarrie, ma sì, era la situazione che purtroppo c'era contro, però io sono contento che altri film siano andati meglio del nostro. Ecco, quindi, che sono nel cuore del regista, nel caso non sapeste. Quindi, questo Mission Impossible Dead Reckoning parte 1, a fronte di un budget che è stato innalzato dal fatto che hanno iniziato a girare prima il Covid, hanno girato durante il Covid e dopo il Covid, più di 300 milioni di budget a fronte di un incasso di 563.7 milioni di dollari. Perché l'ho messo un po' più sopra? Perché è stato comunque il migliore esordio di un film della saga di Mission Impossible. Qual è stato il problema? Il problema è che questo risultato è anche falsato da una collocazione sbagliata non per colpa della produzione. Sappiamo che Tom Cruise è anche produttore qui. Lui voleva replicare con questo film, comunque avvicinarsi al miracolo di Top Gun Maverick, che aveva incassato quasi un miliardo e mezzo. Non penso che Tom Cruise pensasse di guadagnare così tanto, perché i Mission Impossible non sono mai arrivati a miliardo, però secondo me voleva rendere il film più redditizio del franchise. E secondo il mio modesto punto di vista, al netto di un film che per me non è particolarmente valido, ci sarebbe anche riuscito perché il pubblico non l'ha preso così male. Il problema è che è uscito una settimana prima dell'uscita in contemporanea di Barbie Oppenheimer. Il Barbie Oppenheimer come fenomeno, meme, gliel'ha messo in culo a Mission Impossible Dead Recon in parte 1. Perché è strano che un film del franchise di Mission Impossible che esce e supera i 200 milioni a botteghino, diventando il film del franchise con l'esordio più alto, crolli così tanto già dalla seconda settimana. Non è, secondo me, una questione di passaparola negativo, perché l'apprezzamento c'è stato tanto dalla critica quanto dal pubblico, ma piuttosto il fatto che è stato eclissato totalmente dal successo travolgente di Barbie Oppenheimer. La gente non pensava più ad altro, non si parlava di nient'altro. Tutto quello che è uscito prima è stato dimenticato, per cui ho voluto metterlo leggermente sopra, anche se a livello di numeri sarebbe stato da mettere un pochino più sotto, ad esempio di Blue Beetle, perché è stato penalizzato e perché dico che non era colpa della produzione? Perché Barbie Oppenheimer non si poteva prevedere. Queste date di uscita vengono scelte con larghissimo anticipo, mesi prima, anche un anno prima, anche più di un anno prima. Per cui nessuno avrebbe mai pensato che Barbie Oppenheimer avrebbero creato questo fenomeno. Quando Tom Cruise l'ha capito, sembra che abbia cercato di far spostare almeno uno dei due film tra Barbie Oppenheimer. Ovviamente la produzione gli hanno detto Suka, molto elegantemente, immagino io, non penso che sia stato in questi termini, ma è un modo di dire. E quindi il film è stato sfortunato, per cui per me questo è un flop che non è dovuto al fatto che il film sia bello o brutto, perché comunque i Mission Impossible si guardano a prescindere. A me non è piaciuto, però se mi chiedeste si meritava questo flop, no, perché gli sforzi produttivi facevano pensare a un successo. Quindi, secondo me, siamo proprio ad un livello, a mio modesto avviso, che è stato intaccato da circostanze sfavorevoli. Un po' il lievitamento del budget per i motivi legati alla pandemia e un po' la collocazione infelice, ma che non si poteva prevedere. Non si poteva prevedere una tale infelicità di collocazione, per cui l'ho messo un pochino più alto. Al quarto posto abbiamo Fast X, film che è costato circa 340 milioni di dollari e che è arrivato a incassarne comunque 704.2. Grosso modo una cifra in linea con gli ultimi capitoli della saga, il problema è che è costato molto di più, sempre per gli stessi motivi di qui sopra. Film abbastanza orrendo per quanto mi riguarda, però è piaciuto abbastanza. In realtà il problema è che avevano questa cifra esagerata, però è uno di quelli che è arrivato più vicino a più o meno al budget, all'incasso che serviva. Doveva incassare tipo ben più di 900 milioni, forse anche un miliardo, però 704 milioni sono una cifra di tutto rispetto. Mentre invece Mission Impossible doveva incassare più di 900 milioni e ne ha incassati praticamente poco più della metà, per cui Fast X ha incassato un po' di più in rapporto ai costi, però comunque non è riuscito a diventare un successo. Magari faranno delle re-release in occasione dell'uscita dell'11, chi lo sa. Il punto è che è un incasso non male, per essere un periodo post-pandemico. Ci sono film che ci sono produttori che darebbero un rene per far guadagnare al loro film 704 milioni di dollari. Purtroppo non è stato sufficiente. Non è stato sufficiente, ma tutto sommato è un flop a livello tecnico, ma credo che Universal non sia poi così insoddisfatta. Secondo me l'avevano messo in conto, che sarebbe stato impossibile raggiungere la cifra voluta. Vediamo cosa succederà con l'11. Poi in teoria l'11 era l'ultimo della prima fase, poi dovrebbero andare di spin-off e cose collaterali. Però Vin Diesel ha detto che in realtà volevano farne anche un dodicesimo, quindi in teoria il prossimo non è l'ultimo, dovrebbe essere il penultimo. Questo era il penultimo all'inizio, poi hanno detto no, facciamo che ne facciamo uno in più. Scelta che io non condivido, perché se hai in mente un'idea che cazzo la espandi con un film in più. Poi soprattutto questa cosa la faranno dopo il flop di questo. Vediamo come andrà con l'11, perché lì penso che riusciranno a mantenere il budget contenuto. Speriamo, poi io non amo la saga, quindi però come ho detto, non è che io sono lì che smagno perché abbia successo, però mi dispiace che abbia fatto flop, per quanto io possa non apprezzare i Fast and Furious. Siamo sul podio, terzo posto per Transformers Il Risveglio Film, che ha costato 195 milioni di dollari e che ha incassato 438.9 milioni. Un flop sicuramente, fin dove incassare circa un 540-550 milioni sarebbe già andato bene in realtà, però ne ha incassati molti di meno, ma non si pensava che sarebbe arrivato a quel livello. Grosso modo siamo in zona Bumblebee come incassi, più o meno. Per cui sì, è poco se pensiamo che è il primo vero reboot di Transformers, perché è la stessa linea temporale di Bumblebee, però Bumblebee era uno spin-off. Non era il Transformers con Optimus Prime, poi qua c'erano anche i Bio Combat, quindi si pensava che il film avrebbe raggiunto almeno un 600 milioni. Non è che si pensava, si sarebbe voluto quello, cioè la logica imporrebbe che un film del genere ti incassi più di mezzo miliardo. Non è arrivato a mezzo miliardo, però vi dico che io pensavo che non avrebbe superato i 350. Per me era un flop annunciato, perché il franchise è da un po' che non tira più come un tempo, ma lo stesso secondo me è abbastanza strabiliante che abbia raggiunto questa cifra. Magari per i prossimi film, se vogliono farli, possono abbassare un po' il budget, se già riesce a farlo di 150 milioni di dollari, allora già un incasso come questo potrebbe risultare soddisfacente. Se tu fai 150 milioni di dollari, in teoria dovrebbe farne 450, ma non è mai una triplicazione precisa. Già quasi 440 milioni lo avrebbero qualificato come un film che è rientrato ampiamente nei costi e ci ha pure guadagnato. Non sarebbe stato un successo strabiliante, ma neanche un flop. Sarebbero bastati 50 milioni di meno. Quindi perché no? Poi a me il film non è piaciuto. Cioè io devo dire che alcuni di questi flop sono anche dovuti alla qualità dei film. Alcuni sì, alcuni no. Cioè, per dire, per me il flop di Indiana Jones e di Blue Beetle, ma anche quello di Mission Impossible, non è tanto per la qualità del film, perché Mission Impossible non lo considero un film brutto, il Dead Reckoning. È un film sbagliato sotto tanti punti di vista, ma non orribile, ok? Può piacere a un fan di Mission Impossible, come infatti è successo. A tanti è piaciuto. Per cui non sono film che hanno fatto flop per via della qualità che si portavano dietro. Hanno fatto flop per altri motivi. Questo Transformers, secondo me, ha fatto flop anche per la qualità che si è portato dietro, perché non ha soddisfatto molti. Le critiche sono le... diciamo la critica l'ho accolto tiepidamente, il pubblico ancora di più. Quindi alla fine qui ci ha messo anche del suo il film. È un flop che capisco già di più rispetto ad altri che abbiamo visto in questa classifica. Al secondo posto abbiamo un film che è un flop, ma che la casa di produzione rivendica come un successo. Elemental, budget 200 milioni, incasso 480.5 in costante aumento, comunque ogni weekend aumenta sempre leggermente, film che ha esordito come il peggiore esordio Pixar, ma che poi è stato un record per la sua tenuta. Nonostante un esordio poco convincente e obiettivamente basso, è arrivato a incassare quasi mezzo miliardo. Cioè non calava mai. Non calava mai di settimana in settimana, continuava ad andare a vedere più o meno sempre lo stesso numero di persone. Di solito i film di settimana dopo settimana hanno un drop. La tenuta di Elemental è stata spaventosamente costante e non è una cosa che si vede tutti i giorni. Quindi in questo caso la produzione ha fatto sapere che il film, quando poi si considererà il merchandise, il relay su Disney+, arriverà con il rientrare ampiamente dei costi. Però diciamocelo, è una paraculata. Quando si parla di incassi, non si tira mai fuori il merchandise e questo, perché sono un incasso a parte. Voler dire sì ma ci facciamo con il merchandise è disonesto, perché ogni film bene o male ricava qualcosa dal merchandise. Ok? Ok questo è un film di animazione, quindi il merchandise è ancora più vendibile. Però secondo me è un po' disonesto perché vuol dire che vuoi a tutti i costi far pensare che il film non è un flop. Ma di fatto lo è perché avrebbe dovuto incassare almeno 580-600 milioni. Ne ha incassati 480.5 che è sicuramente un incasso di tutto rispetto, soprattutto per come versa l'animazione in questi tempi e per come versa la Pixar negli ultimi anni. Però venimi a dire sì ma col merchandise, ma il merchandise non si fa mai, lo dobbiamo fare solo per questo film. Andiamo. Disney non mette mai in ballo dei suoi prodotti Disney, perché Pixar è di Disney, non si tira mai in ballo il merchandise. Mo siccome questo film si è avvicinato un minimo alla cifra che gli serve per essere profittevole, mancano solo un cento milioni, dico no ma poi col merchandise, eh ma no. Il film rimane comunque effettivamente un flop, meno di quello che si sarebbe pensato, ma comunque rimane un flop. Io mi dispiace perché Pixar, il film non è tra migliori Pixar, ma io non sono neanche così cattivo con questa pellicola, per me non è così brutto. Ha i suoi difetti, ha i suoi problemi, ma comunque non mi è dispiaciuto e mi ha anche emozionato, per cui mi dispiace che sia un flop e con buona pace della produzione dobbiamo considerarlo tale. Al primo posto abbiamo la Sirenetta con un budget stimato di 250 milioni e un incasso di 569. Avrebbe dovuto incassare qualcosina in più di 600 milioni. Però a quanto pare Disney dice che con questi quasi 600 milioni sono rientrati nei costi. Facendo la moltiplicazione non risulta moltissimo. Loro sostengono di sì e dicono il film è entrato in pari, non ha guadagnato, ma non ha neanche perso soldi. Poi con l'arrivo su Disney Plus in realtà il film dovrebbe aumentare il suo incasso, però sapete che Disney Plus, come tante altre piattaforme streaming quasi tutte, non condivide i dati dell'incasso derivato dagli abbonamenti. Questo significa che il film potrebbe risultare un successo per Disney internamente, ma a livello di incassi, quelli pubblici, rimane un film che non ha incassato e non ha perso. Per cui è forse quello che ne esce più vincitore da queste catombe. L'ho inserito perché a livello tecnico, come dicevo all'inizio, questo è il film che non sarebbe un flop stando alle dichiarazioni. Ma allo stesso tempo non è neanche un successo, quindi lo possiamo considerare flop relativamente, cioè un film sulla sirenetta come live action doveva incassare almeno 800 milioni. Se pensiamo che Aladdin ha incassato più di un miliardo così come altri live action di Disney, proprio la sirenetta non ci si aspettava che sarebbe andato sotto. Io stesso avevo detto cavolo, qua tutti quelli dicevano fa flop, fa flop, fa flop, ho detto regà ma impariamo ad analizzare, non farà flop. Infatti neanche gli analisti hanno beccato il flop. Gli analisti erano convinti che avevano fatto delle rilevazioni, il film doveva incassare di più. È stata una scheggia impazzita, non si sa come mai non si è previsto il flop. Chi diceva fa flop, fa flop, secondo me lo diceva un po' per partito preso. Perché sì è vero, non aveva avuto grandi risultati dalle prevendite in Cina, su questo siamo tutti d'accordo, ma non era sufficiente determinarne il flop. E invece poi è andata come è andata, per cui secondo me chi urlava il flop lo faceva ma non con cognizione di causa, perché neanche i professionisti del settore, e non mi ci metto in mezzo, io parlo degli analisti, sono riusciti a beccare questo basso risultato sul lungo termine, sul lungo periodo. Però è uscito da qualche giorno su Disney Plus e sta andando molto bene pare, per cui forse con gli abbonamenti di Disney Plus riusciranno a guadagnarci qualcosa. Ma è ancora presto per dirlo. Poi io non ho inserito Tartaruga Ninja Chaos Mutante perché il budget di quel film è stato stimato in 70 milioni di dollari. Sembrava ne stesse guadagnando troppo pochi, però nel giro di qualche giorno è passato da un incasso di 130 a un incasso di 160. Per cui il film è ancora in sala e ci rimarrà ancora qualche settimana, potrebbe raggiungere i 200 milioni. Quindi non lo voglio inserire in questa classifica perché è ancora troppo presto. Ci vorrà ancora qualche settimana prima di dire se sia un flop o no. E io credo che arriverà a risultare profittevole. Io non l'ho inserito perché secondo me finisce col non essere un flop. Perché anche se in cassa sui 180 a 190 milioni è già una cifra sostenibile che non lo qualifica come insuccesso. Per cui non lo voglio mettere come flop perché ancora non si sa se sarà un flop. I risultati delle ultime due settimane sono stati piuttosto strabilianti per quanto riguarda questo film. Quindi questa era la classifica dei flop di quest'estate. Un'estate così densa di blockbuster non si era vista. Quindi non si era mai vista. Ho voluto fare un video per racchiudere questo fenomeno molto strano che ha portato a tantissimi flop tutti insieme. Non si era mai vista una cosa del genere. Per cui secondo me era un qualcosa che andava analizzato. Quindi fatemi sapere un conto qui sotto cosa ne pensate voi. Non vi chiedo la vostra classifica perché voglio dire alla fine li ho messi in ordine più o meno per il loro risultato matematico. Poi alcuni magari li ho spostati perché ho voluto anche considerare il perché hanno fatto flop. Ed è un altro discorso. Quindi ditemi cosa pensate di questi flop. Se secondo voi è più una questione del periodo perché c'è stata la pandemia. Se è una questione della qualità. Perché poi abbiamo visto che i film veramente di qualità hanno fatto il loro. Guardia ragazzo il volume 3. La Crosse Spider-Verse. Barbie. Oppenheimer. Sono film che avevano qualcosa da raccontare. lo hanno fatto bene. Nel bene o nel male. Possono anche non esservi piaciuti. Non importa. Però erano film strutturati in un certo modo. La qualità in quel caso ha pagato. E ha ripagato. Però come avete visto nella classifica. Secondo me non tutti i film che hanno fatto flop se lo meritavano. Perché erano di bassa qualità. Alcuni erano di buona qualità ma hanno comunque flopato. Per cui ditemi cosa ne pensate. Vi abbraccio. Ringrazio. Grazie a tutti. Tanto ma tanto ma tanto bene. E noi ci vediamo al prossimo.